Perluci, una prestazione convincente oggi? Sì, oggi abbiamo fatto bene, sono contento. Al di là del risultato, l'aspetto mentale che mi interesserà vedere. La squadra ha concesso poco agli avversari in fase difensiva, quindi poi dopo abbiamo dei giocatori che possono far gol, che siamo bravi in fase offensiva, quindi il risultato è una logica conseguenza dell'atteggiamento di tutta la squadra. Piccolo, Vertelli, Fumasoli, tutti hanno fatto una prestazione, direi, ottima. Qual è stato il segreto di questa ottima prestazione? Abbiamo giocato meglio a livello individuale e poi siamo cresciuti sotto l'aspetto della squadra. Abbiamo giocato da squadra, abbiamo pensato non a fare il compitino, ma abbiamo aiutato il compagno, abbiamo difeso tutti quanti. Questa era importante, domenica scorsa abbiamo preso dei controcreti sanguinosi e questo non è successo, ci abbiamo lavorato durante la settimana. Quindi sono contento del lavoro che abbiamo fatto oggi. Chiaramente dobbiamo migliorare tanto, abbiamo preso Andrea, che deve entrare nei meccanismi, deve crescere a livello fisico. Quando saremo a posto tutti quanti, i giocatori che sono arrivati con piani anche, e tutti quelli che ci sono possiamo disputare, secondo me, un buon campionato, giocarci tutte le partite con l'intenzione di vincere. Poi dopo il risultato vedremo. Cosa c'è ancora da migliorare in questa squadra? C'è da migliorare tanto sotto tutti gli aspetti, nella qualità delle giocate, nei tempi di movimento e inserimenti, nell'attenzione. dobbiamo fare un passo in avanti in tutti i settori, a livello di personalità. Non c'è una cosa sola, non si può indicare una cosa sola. Si deve lavorare su tutto, senza tralasciare le cose che facciamo bene. Bisogna continuare a fare bene e cominciare a fare bene quelle che magari adesso siamo un po' a deficitare. Grazie a tutti.